Non posso far mangiare caldo e non posso neanche avere i servizi igienici perché sono molto necessari, specialmente nel scarico del gabinetto che è bloccato. Era tutto pronto per il trasloco anche tra le altre cose? Tutti gli scatoloni pronti? Sì, tutto pronto perché cinque anni fa mi avevano promesso il cambio e che poi non è mai venuto. Così è iniziato il racconto di Rita ai nostri microfoni. A 81 anni vive in una casa comunale a Marghera, senza acqua, luce né gas. Oggi Ather precisa che l'appartamento di via del lavoratore non è più di sua competenza e che fino a quando lo era, tre anni fa, le manutenzioni sono sempre state eseguite. Nel frattempo la storia di Rita ha toccato molti cuori, tanto che è iniziata una gara di solidarietà per aiutarla. Ma di queste situazioni ce ne sono tante, troppe, e per risolverle serve l'aiuto di tutti, come sottolinea un cittadino che si batte a fianco dei più deboli. L'emergenza abitativa nelle grandi città, adesso che poi diventerà anche la città metropolitana, è enorme. Io non so quante migliaia e migliaia di sfatti ci saranno, non solo di cittadini che abitano nelle case popolari, nelle case comunali, ma anche di cittadini che non possono più pagare per la crisi economica, l'affitto, il condominio, oppure non possono più pagarsi il mutuo della casa. Sono circa più di 400 mila a livello nazionale. Bisogna assolutamente intervenire. A queste persone finiscono di fare una demagogia di lotta politica, populistica, ma bensì decidono proprio di aiutare il popolo. Un popolo che purtroppo spesso non conosce i suoi diritti. Purtroppo i cittadini non sono a conoscenza delle leggi, perché se andassero a vedere le leggi e avessero gli avvocati che li dipendessero, effettivamente avrebbero i diritti, perché sono scritti nella Costituzione italiana il diritto della casa, il lavoro, eccetera.